Musica Parliamo di giovani, cosa può fare la politica per lo sport? La politica può fare molto per lo sport, soprattutto per lo sport di base e per i giovani. Io credo che bisogna avvicinare i giovani allo sport il più possibile, creando una rete, creando una rete con gli oratori, creando una rete con le strutture sportive comunali, facendo in modo che i giovani all'interno dello sport possano trovare quegli elementi fondamentali per la loro crescita nella loro vita, il rispetto delle regole, il sacrificio, la competizione, la voglia di ottenere dei risultati e soprattutto riportare i ragazzi allo sport riempiendo tanto tempo libero e facendo in modo che all'interno dello sport si possa creare quella giusta e sana competizione che li plasmerà per la loro vita. E come farlo? Noi abbiamo una grande opportunità in questo momento. All'interno del Comune di Milano, della provincia di Milano, ma anche in molte città e in molte paesi della Regione Lombardia stanno definendo il nuovo piano regolatore, così è TPGT. All'interno del piano dei servizi ci sono le strutture sportive. Bisogna fare in modo che le strutture sportive vengano realizzate in unione tra i diversi comuni, creare dei comprensori sportivi e facendo soprattutto una politica tra quelle che sono le parrocchie e quelle che sono le strutture sportive, creando una simbiosi tra queste realtà e in modo che i ragazzi possano trovare dei luoghi sani dove poter praticare lo sport e formarsi. All'interno del Comune di Milano